serrato è bellissimo come gli dicevo più comodo di quello che mi aspettavo anche se c'era qualche turbolenza non la sentivi molto hai provato a pilotare un po anche tu sì 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 sono stato un po brusco all'inizio mi ha detto ma perché è più delicato una bella esperienza comunque grazie mille grazie a te